La senatrice del PD, Venera Padua, ritorna sulla questione del liceo Campailla di Modica, per cui in questi giorni è in atto una vera e propria mobilitazione per scongiurare doppi turni per il prossimo anno. Questa volta però la senatrice interviene per ribattere alle polemiche sollevate dal primo cittadino di Modica, Ignazio Abate. La Padua sottolinea di non volere alimentare polemiche e contraposizioni di nessun tipo e che le risorse debbano essere tutte per un unico obiettivo da raggiungere. Tuttavia, in una nota ufficiale, la Padua afferma di non poter restare impassibile rispetto a chi, come se nulla fosse, stravolge la realtà storica, pensando che tutti abbiamo memoria corta. Anche perché io quei fatti di cui stiamo parlando, sancisce Venera Padua, li ho vissuti da protagonista. Così la senatrice del PD, a commento della nota diffusa dal sindaco di Modica, Ignazio Abate, sulla vicenda del liceo artistico Galilei Campailla e in particolare sui contratti di locazione delle sedi periferiche. In un passaggio del suo intervento, afferma la senatrice Padua, il sindaco si duole delle scelte scellerate compiute in passato dalla provincia regionale di Ragusa, che piuttosto che elocare le sedi periferiche avrebbe potuto pensare a progettare una nuova sede. Peccato però che il sindaco Abate, allora consigliere provinciale, queste scelte le abbia sostenute, appoggiando l'amministrazione allora retta dal presidente Antoci, che tra l'altro aveva come assessore in giunta l'attuale onorevole Nino Minardo. Dallo stesso sindaco, citato nel suo intervento, sostegno dell'azione a vantaggio della risoluzione della problematica. La Padua quindi si rivolge duramente al sindaco, chiedendosi di cosa si stia parlando e del perché si voglia falsificare il passato, come si legge testualmente nella nota. Troppo facile parlare a distanza di tempo, nella speranza che tutti abbiano la memoria corta, sancisce ancora la Padua. Io, dice che ricordo benissimo quanto accadde, anche perché da consigliera provinciale, esponente dell'opposizione, presentai una serie di interrogazioni per denunciare lo sciupo di denaro pubblico, proprio come riferimento all'eccessivo ricorso alle locazioni. Mi sono sentita in dovere di ristabilire come stanno esattamente le cose, scrive la senatrice. Quindi, che il sindaco si dolga per quanto sta accadendo, adesso ben venga, ma che critichi le scelte del passato non è intellettualmente corretto, attacca senza mezzi termini. E la senatrice Padua poi aggiunge, ho avuto modo di risentire in queste ultime ore il commissario straordinario dell'ex AP Dario Cartabellotta, il quale mi ha confermato che purtroppo non ci sono novità rispetto al quadro desolante che mi aveva prospettato l'ultima volta e che comunque le decisioni definitive saranno assunte nel corso di una conferenza dei servizi che l'ex provincia terrà venerdì 17 giugno.